ciao ragazzi oggi vediamo come eseguire al meglio il bent over row innanzitutto come potete vedere la schiena è in posizione neutra quindi alla sua naturale curvatura tiriamo la nostra sbarra verso il ventre con i gomiti vicini al nostro busto e le ginocchia sono leggermente piegate i primi errori da non fare sono proprio come questo incurvare troppo la schiena un altro è quello di alzare troppo le spalle quindi ritrovarsi con la sbarra troppo lontana dalle tibie un'altra è quella di dondolare ciondolare con tutto il busto per aiutarsi a sollevare un peso troppo pesante un altro ancora è quello di mantenere i gomiti troppo larghi e quindi non andare a coinvolgere i muscoli giusti questa è la corretta esecuzione cerchiamo di non coinvolgere gli avambracci ma di utilizzare solo la schiena per questo video è tutto ciao e alla prossima